Ciao a tutti e ben ritrovati, allora quest'oggi andremo a vedere che cosa sono le gerarchie che ovviamente sono disponibili sia sulla Power POD e Excel che sulla Power BI Dexta Mobile come tutte le altre lezioni che abbiamo visto fino ad ora, quindi tutto compatibile. Andiamo nel nostro file di esempio, qui ho praticamente riciclato un file di esempio della lezione 20 di Power Query, trovate il link sopra per accedere alla specifica lezione che vi spiega quello che vi mostro adesso. Praticamente avevamo creato, andando nel menu dati, query connessione, avevamo creato una tabella calendaria dove appunto, vedete, qui avevamo creato tutti questi campi qua, partendo dal sorgente, quindi con il linguaggio M andiamo a creare questa tabella calendario che è dinamica, quindi si aggiorna nel tempo sul set di dati che noi andiamo a scegliere. E questa appunto è una tabella calendariale che può essere utilizzata per n scopi. Allora poi io ho fatto tasto destro, carica in, e ho fatto aggiungi questi dati al modello dati, così sono entrati queste informazioni all'interno di Power Pivot. Allora qui vi ho messo una nota, che cos'è una gerarchia? È un elenco di colonne che si arrotolano in un singolo elemento, in un report pivot o Power View, praticamente sono delle cose che si utilizzano appunto in Power Pivot. Una gerarchia viene visualizzata come un singolo oggetto nell'elenco dei campi, quindi se noi vogliamo avere una gerarchia di tipo anno, trimestre, mese, noi creeremo un campo che contengono queste tre informazioni, così quando noi tireremo giù quel campo, nella pivot si inseriranno tutte e tre insieme, oppure anche nel grafico, dopo facciamo un esempio pratico. Allora intanto andiamo a vedere come si creano queste cose qua, quindi andiamo nel pannellino di Power Pivot. Qui facciamo vista diagramma, noi prenderemo informazioni, abbiamo detto anno, prenderemo il trimestre e prenderemo il mese, le metteremo insieme, piuttosto che il mese magari prendiamo il nome del mese, che è un po' più parlante rispetto a 1, 2, 3. Allora, per fare questa cosa qua si prende la vista diagramma e andiamo qui che abbiamo la nostra tabellina. Poi abbiamo due sistemi, premiamo qui, crea gerarchia, questo bottoncino in alto a destra, e lui crea, in fondo, ok, vedete, crea questo simboletto qua con le cartelline, gerarchia, quindi facciamo una zia, ad esempio gerarchia, anno, trimestre, mese, ok? E' il nome del nostro campo che vedremo poi quando useremo la pivot o i grafici. Adesso che abbiamo fatto questa cosa qua, drag and drop, praticamente, prendiamo ad esempio l'anno e lo trasciniamo dentro. Ecco qua, lo mollo, vedete, quando diventa blu lo mollo e lui finisce dentro. Ovviamente rimane qua su, va solo inserito nella gerarchia. Il mese, e lo tiro giù e lo metto dopo l'anno, perché lo potrei mettere anche prima. L'ordine che io do qua è l'ordine in cui poi compaiono i campi all'interno della pivot, quindi anno, mese, e prendiamo anche il trimestre che lo mettiamo tra anno e mese. Ok, lo mollo qua, io ho fatto la mia bella gerarchia. L'altro sistema è, ad esempio, facciamo una gerarchia con informazioni della settimana, praticamente abbiamo la settimana dell'anno, la settimana del mese, e basta, solo queste due qua. Facciamo col tasto CTRL, selezioniamo i due campi, tasto destro, crea gerarchie, e qua facciamo ad esempio gerarchia, week, anno, week, mese. Ok, così sappiamo che ci sono dentro queste informazioni. E qui ce le troviamo qua, ok? Perfetto, fatte le gerarchie, chiediamo PowerPivot, abbiamo finito. Andiamo a fare una tabella pivot, ad esempio, facciamo inserisci, tabella pivot, ecco qua. Uso il modello di dati di questa cartella di lavoro, riconosce già in automatico che c'è un modello di PowerPivot sotto, premiamo ok. Eccoci qua, allora adesso cosa facciamo? Allarghiamo un pochino le colonne, così vediamo un po' meglio. Adesso vedete, prima di creare le gerarchie, noi vedevamo calendario, e poi vedevamo già l'elenco dei campi che c'era qua. Allunghiamo un po'. Vedevamo solo l'elenco dei campi, quindi questo altri campi non c'era. Adesso che abbiamo messo le gerarchie, e si spacca così la tabella calendario. Trova l'elenco dei campi, che sono tutti quelli che abbiamo. Però trova anche le gerarchie, con i campi che ci sono dentro. Ovviamente non è che noi possiamo portare giù solo un campo di questa gerarchia. Vedete, quando io tiro giù, comunque lui trascina giù tutto, perché se premio non è più, mi porta giù anche le altre informazioni. Adesso usiamo quella sopra. Quindi, nel momento in cui io clicco qui, che c'è il flag, oppure tranquillamente lo trascino giù, o lo metto dove voglio, insomma, non è un problema questo, o anche qua su, vedete? Io ho sempre la mia bella gerarchia quando vado a fare i filtri. Allora, ad esempio, qua il mese, facciamo una correzione, avevamo detto che al posto del mese, prendevamo, non questo, lo tiriamo via, facciamo tasto destro, rimuovi da gerarchia, ok, rimuovi gerarchia, e prendiamo il nome del mese, nome del mese, tasto destro, aggiungi a gerarchia quale, anno, trimestre, possiamo fare anche così. Ecco qua che l'ho messo qua. Adesso torniamo qua, ecco che è cambiata la gerarchia, quindi, appunto, quando andiamo qua, abbiamo l'anno, il trimestre, e abbiamo il mese. Quindi, appunto, andiamo a tirare giù l'informazione nel suo insieme. Se poi andiamo su altri campi, e prendiamo, ad esempio, la data, ok, e poi, anzi, togliamo prima la data, andiamo qua e la formattiamo, andiamo su progettazione, diciamo che vogliamo mettere tutto in riga, al posto di avere annidato, come vedevamo prima, quindi, menu progettazione, layout report, mostra in formato tabella, perfetto. Adesso noi tiriamo giù, ad esempio, la data, la mettiamo qua, così compare un altro campo, non si nidifica come lo vedevamo prima. Però qui vedete, quando io premo sul più e sul meno, in questo caso, lui mi apre un campo in più, quindi, attenzione, perché quando aprite il campo, ovviamente la pivot si sposta verso destra, se avete formula, in questo caso, salta. Altrimenti tornate come eravate prima, layout, e torniamo alla impostazione compatta, o a struttura, come più preferite. Ora, se qui dopo aprite, resta sempre un campo, però vedete il dato che si sposta di riga, man mano che aprite le informazioni qua, ovviamente, scegliete voi come volete lavorare, oppure struttura, è sempre qua, una struttura, anche in questo caso, si apre una colonna, però quando apro la gerarchia, mi crea una riga nuova. Ok, vedete, se io qua vado in progettazione e layout, metto in formato tabella, me le mette tutte in riga, che è quella che io più preferisco. Perfetto, questa è la mia gerarchia. quando faccio clic qua, tendenzialmente qui, quando ci sono più campi, mi dice su quale campo voglio fare la ricerca, ma quando si tratta di gerarchia, ok, io ho sempre l'informazione messa così, e comunque quando farò la ricerca qua sotto, me la fa sempre su tutte le informazioni. Ok, questa è una gerarchia. Vediamo, ad esempio, facciamo anche un inserisci, e facciamo anche un piccolo grafico. Facciamo ad esempio questo, ok, qua facciamo inserisci, scusate, non questo, facciamo un inserisci grafico pivot, così lo prendiamo dal modello dati, eccolo qua. Ecco che ci compare il nostro calendario. Anche in questo caso, vedete, c'è la gerarchia, quindi ad esempio io mi tiro giù qua il mio trimestre, poi facciamo che ci mettiamo, adesso io qui non ho una quantità, ma possiamo provare a farla con, possiamo farla con la settimana dell'anno, che dovrebbe riconoscerla. Ok, ecco qua. Io qui ho, ad esempio, ok, ipotizziamo che appunto la settimana dell'anno sia la mia ipotetica quantità. E qua la mia gerarchia del tempo. Allora lui me la dà sempre con l'ordinamento con cui ho creato la gerarchia, quindi dicevamo appunto che noi qui abbiamo creato l'ordinamento anno, trimestre e nome del mese, lo vediamo anche da qua. Quindi lui quando va a esporre il dato con la mia gerarchia, ok, la mia quantità è aggregata per anno, ma se io premo il più, ok, sul grafico, mi fa l'esplosione della mia quantità per trimestre. Se premo ancora più, faccio un altro drill down e vedo l'esplosione del mio dato, della mia quantità, per mese. Quindi anche sui grafici questa cosa qua risulta veramente molto utile. questa cosa qua ovviamente del drill down si può fare ugualmente anche senza la gerarchia, perché io vado qua, gli tiro giù l'anno, gli tiro giù il trimestre, ok, e qui compare il più o il meno, vedete, è la stessa cosa. Però quando tiro giù le informazioni devo sempre farle una alla volta e poi me le esplode subito tutti. Invece con la gerarchia è veramente, veramente molto semplice. Allora, queste cose di solito si usano con i campi delle date che sono comode e utili da utilizzare, però potete farlo su qualsiasi altro tipo di campo. Magari avete delle informazioni anagrafiche che dovete aggregarle, ad esempio, nazione, provincia, paese, e le aggregate in una sola gerarchia per avere una gestione più semplificata anche per l'utente che deve andare a fare delle analisi. Può essere utile questa cosa qua. Se poi volete utilizzare la gerarchia e far sparire i campi che sono all'interno del nostro set perché non volete che vengano utilizzati uno alla volta ma volete per qualche motivo che vengano sempre utilizzati col set di gerarchie completo come abbiamo già visto in qualche lezione precedente si va qua nel campo che volete far sparire tasto destro e fate nascondi a strumenti client qui diventerà in grigette ok se andiamo anche sulla vista diagramma è la stessa cosa vedete anno diventa in grigetto se lo volete riscoprire scopri a strumenti client e se noi andiamo appunto su calendario vediamo sempre la nostra gerarchia che funziona con l'anno perché non è che sparisce dalla gerarchia e qui sui campi ok non lo troviamo più vedete non c'è più dopo la data il campo data non c'è più l'informazione dell'anno bene con questo è tutto spero che sia stata una lezione interessante come sempre se il video vi è piaciuto lasciate un like qua sotto e magari iscrivetevi al canale ci vediamo alla prossima lezione a presto ciao ciao